Sono molto amica del Kebab Aro sotto casa mia e quindi ho vissuto un po' con lui questa tensione che è partita il 25 gennaio 2011. Mettere in parallelo e a confronto il fatto che loro siano in piazza prendendo botte e morendo e noi siamo la realtà nostra di qualcosa che mi tiri sul morale che la vita è bella o mio dio caro lo pensava anche mickey mouse e guarda che fine ha fatto bloccato in un mondo di compensato e di resina costretto a sorridere sempre a stringere mani appiccicaticce di bambini viziati e sovralimentati da cibi per proteici Mi interessava studiare questa situazione empaticamente però vista attraverso uno sguardo che rimane principalmente su una realtà milanese italiana. Vuoi che ti dica esattamente cosa mi proporranno? Beh, stage di sei mesi, nessuna retribuzione, nessun rimborso a spese, sabato domenica compresi nel pacchetto regalo, straordinaria strafottere, ah e se mi avanza dell'energia mi calano le braghe, pa! Il tutto poi con la prospettiva che se faccio bene il mio lavoro mi prenderanno a lavorare, sottopagato e senza nessuna certezza. Grazie! 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 Ciao! Grazie! 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 Grazie a tutti.